Siamo di fronte ad un cambiamento epocale. Passo dopo passo l'Italia sta cambiando. Questa settimana approviamo la riforma del Senato e del titolo quinto. E siamo fiduciosi che in poco tempo riusciremo a concludere anche un accordo su una buona legge elettorale. Non ci nascondiamo le difficoltà del Paese, ma siamo pronti con determinazione ad affrontare tutto. Lavoro, fisco, scuola.